Che sia frutto di un cortocircuito oppure di analisi parziali o meglio veritiere, la vicenda della non potabilità dell'acqua della Ruzzoreti lascia molte perplessità, soprattutto nei cittadini che non sanno se fidarsi oppure no. Resta il fatto che quanto accaduto martedì pomeriggio è stato grave. Le scene di panico che si sono registrate nel tardo pomeriggio sono il frutto di uno stato d'ansia messo in circolazione da notizie che alla fine si sono rivelate infondate o parziali. L'assalto ai supermercati, la corsa all'acquisto di litri e litri di acqua minerale, l'ansia di restare senza acqua si sono impadroniti di una popolazione già seriamente provata da un'invernata difficile e travagliata. Qualcuno ha sbagliato, questo è evidente e qualcuno dovrà pagare. Non sappiamo se a sbagliare sia stata l'Arta, il Sian, la Asl, la Zoreti, qualche funzionario, dirigente o semplice operatore di laboratorio. Questa storia non può e non deve passare in cavalleria, soprattutto quando ad essere toccate sono la serenità della popolazione e le tasche, visto che una spesa non preventivata per l'acquisto di quantità industriali di acqua minerale possono non essere state in dolore. Il procurato allarme nel codice penale è un reato. Non sappiamo se quanto accaduto rientra nella casistica, sappiamo però che la procura di Teramo ha immediatamente aperto un fascicolo affidato a un pool di magistrati coordinati dal procuratore capo guerriero in persona. Ancora oggi la nostra redazione è subissata di telefonate di cittadini che ci chiedono notizie sulle analisi e sulla potabilità dell'acqua. Ecco, adesso è un diritto di tutti conoscere, sapere i risultati delle analisi che devono essere rese pubbliche, conoscere quali sostanze, eventualmente siano vere le prime analisi, erano contenute nell'acqua e quale sia la causa di tali presenze, conoscere i nomi dei responsabili, di chi ha sbagliato e soprattutto il perché sia successo tutto questo. Tutti meritiamo una risposta, una spiegazione, un chiarimento. La gente ancora non si fida e come si potrebbe dar loro torto?